Buonasera a tutte e tutti e tutto, siamo qui dal Park Nord dello Stadio Euganeo, 21 luglio 2021. Siamo con un'intervista che precede l'ultimo dibattito che ci sarà stasera, che parlerà ancora di Genova, intervistiamo Gabriele che sarà con noi anche successivamente al dibattito. Ciao Gabriele. Ciao. Gabriele Proglio, ricercatore di storia contemporanea e autore del libro che ho qui in mano e che vedete anche sul tavolino, I fatti di Genova, una storia orale del G8, edito da Donzelli. Genova, l'abbiamo detto più volte in questi giorni, da un punto di vista anche storiografico è quasi un tabù. Genova però ha avuto la potenza rispetto ad altri movimenti di raccogliere tantissime memorie, tantissimi racconti, sfruttando anche quelli che sono stati i vari strumenti comunicativi che a Genova ci sono stati e si sono dati, come per esempio la radio, lo strumento dei video. La prima domanda Gabriele che ti faccio è perché utilizzare la storia orale per raccontare un evento politico, sociale e poi anche mediatico come Genova? Grazie alla domanda. I motivi sono legati al tipo di narrazioni che sono state prodotte in questi vent'anni e sono centrate sulla visualità, su come il visivo è entrato a costruire un immaginario pubblico dei fatti del G8. In particolare lo ha fatto in due prospettive differenti, ma legate insieme. Da una parte il reeducismo, cioè Todorov nel suo libro Sulla memoria dice sostanzialmente che le vittime possono ricordare solamente come vittime, e quindi in qualche maniera hanno un ricordo bloccato. Quindi da una parte il vittimismo, dall'altro quello che dicevo prima, il reeducismo, ovvero delle persone che si sono trovate a Genova a combattere una battaglia loro malgrado. Per quale motivo? Non parlo di chi ha praticato azioni dirette, disobbedienza civile o forme di azioni programmate, ma della maggior parte delle altre persone, di chi ha deciso di essere a Genova. Quelle persone in qualche maniera hanno vissuto non una guerra, perché ovviamente non c'erano degli eserciti in piazza, ma una battaglia. Ecco, questo altro elemento è stato centrale proprio per raccontare i fatti di Genova. Le fonti orali servono per spostare il piano della narrazione da un racconto che è unico e che va a essere declinato per tutte le persone, quindi un racconto dall'alto che viene poi diffuso in maniera capillare attraverso i mezzi di comunicazione, ha invece un racconto che parte dal basso e che costruisce la fonte nel dialogo, nell'interazione con le soggettività. Cambia molto e in maniera profonda il tipo di narrazione sul G8. Tant'è vero che nel libro, io ho utilizzato la metafora più importante, forse la più immediata della memoria, che è quella del viaggio, dando tre tempi, le partenze, i giorni di Genova e poi il ritorno. Si costruisce a questo punto un intreccio di storie che si passano da Genova, ma che hanno dei percorsi precedenti e poi delle continuità dopo. Infatti mi collego proprio a questo che hai appena detto, infatti rispetto ai racconti che di Genova sono stati fatti, di solito sono racconti che ci raccontano, scusate il gioco di parole, le tre giornate clou di Genova, la prima con il corteo per la libertà di movimento, la seconda giornata con le piazze tematiche e poi la manifestazione che avviene all'indomani dell'uccisione di Carlo Giuliani. Ecco, rispetto a queste tre, tu nel tuo libro hai scelto di aggiungere altri due capitoli che sono proprio quelli della partenza e del ritorno da Genova. Perché la scelta appunto di far raccontare i viaggi verso Genova, ossia la partenza dai propri territori fino a Genova? Perché la molteplicità dei percorsi che iniziano prima di Genova e quindi non dico solamente dal febbraio quando iniziano ad accendersi i riflettori sul vertice, ma forse anche da prima e dall'interesse che è portato da Seattle e da tutte le proteste antiglobalizzazione, coagulano molteplici ideali e molteplici pratiche attorno ad un unico modo di lottare e di in qualche maniera contrastare la globalizzazione. Sì, quel movimento è legato a una specificità che è quella dell'evento manifestazione e quindi i vertici sono presi da sedio da soggettività differenti che potessero in modi differenti io ho provato nelle partenze a mettere insieme come queste soggettività hanno inteso la globalizzazione e la lotta alla globalizzazione. Ne è uscito fuori un quadro molto più profondo di come i media lo raccontano. C'è dal ecofemminismo ai sindacati alla lotta per il lavoro, c'è le lotte e le rivendicazioni delle persone migranti alla questione dei confini, c'è la lotta dei centri sociali con le varie forme e le varie eterogenità che contraddistinguono questo contesto a la singola persona che è interessata alla lotta alla globalizzazione che vede in qualche maniera una possibilità di costruire un mondo differente. E la stessa cosa succede poi per i ritorni, proprio perché i ritorni segnano uno snodo centrale. Genova il 21 luglio non è la fine, è uno snodo centrale perché proprio attraverso le partenze si può vedere come le persone, e questo mi ha colpito in maniera particolare, tutte le persone intervistate, le oltre 80 persone intervistate, tutte leggono Genova non come la fine ma come un momento di passaggio dopo il quale è importante riformulare quegli ideali che hanno portato in piazza Genova. Dicevo in precedenza quanto Genova è stata anche caratterizzata dalle immagini. Sulle giornate del 19 e del 20 soprattutto, sicuramente le immagini le hanno fatte da padrone, è la prima volta che quasi in diretta assistiamo a quello che succede per esempio in piazza Limonda, le edizioni speciali dei TG ci danno subito la potenza delle immagini. Però quello che mi piace del libro, devo dire che mi piace davvero tutto, ne parlavamo prima, ma qual è la potenza rispetto alle due giornate clou di Genova delle parole, del racconto che possono avere rispetto a quella che ormai siamo abituati invece alla potenza delle immagini. Quindi quanto quelle parole, quei racconti sono fondamentali per capire, soprattutto per chi non c'era a Genova, quelle che sono state quelle giornate. Ecco, questo è un punto secondo me centrale perché la storia orale di nuovo e la memoria è centrata sulla visualità, sul visivo, ma è un altro tipo di visualità rispetto a quella che è diffusa dai media. Allora, leggere come persone differenti, con soggettività differenti, hanno tutte percepito qualcosa di comune, faccio un esempio concreto, la questione dell'elicottero sopra le teste che tutti riportano, cioè quindi una metafora anche del fatto di un controllo da parte della polizia di una città sediata, di una zona rossa, che è esemplificazione dello squilibrio tra poche persone che comandano o che vogliono, vorrebbero comandare l'intero mondo sulla maggioranza delle persone e militarizzano questo spazio. Queste narrazioni spostano il piano e fanno vedere come c'è qualcosa di differente, cos'è questo differente e ciò che hanno percepito queste persone e ciò che ha messo insieme le persone in quella piazza. Faccio un altro esempio concreto. Il 20 luglio ci sono diversi passaggi dopo la morte di Carlo, quando si cerca di elaborare collettivamente il lutto, dopo le assemblee, dopo gli incontri, dopo gli abbracci, dopo i pianti, dopo le parole spese, c'è un momento fondamentale che tutti e tutte sono stati a Genova, hanno vissuto, ovvero la domanda domani ci saranno persone in piazza, cosa succederà domani? E la potenza delle narrazioni del sabato che dicono noi scendiamo in piazza e ci sentiamo marea perché si sentiva solamente un grande rumore di persone che hanno riempito le strade di Genova. Ecco, questo fa veramente capire come resistenza e conflitto, lo dicevamo prima, sono delle parole da introdurre all'interno della narrazione di Genova. Sono delle immagini che fanno capire che c'è qualcosa di più e che riportano alle persone, e non alla narrazione dei fatti unica, ma alle persone la storia di quei giorni. Questo progetto è iniziato con un titolo, La storia siamo noi. Ecco, questa storia, secondo me, è la storia che va restituita alle persone che hanno attraversato Genova, le piazze di Genova, e che in qualche maniera hanno continuato anche dopo Genova. E questo che dicevi è davvero fondamentale, proprio nel dibattito che inizierà qui in stand alle 20 e 30, proprio partiremo da questo concetto, ossia dalla forza che la piazza del 21, nonostante tutto si è data in quella giornata. Io, Gabriele, ti ringrazio, ci rivedremo qui tra un po'. Consiglio veramente la lettura del libro I fatti di Genova, una storia orale del G8. Grazie, Gabriele. Grazie a te, grazie a te.